Oggi parliamo di Evan Ndika, senza l'apostrofo tra la N e la D, in realtà l'ho visto scritto in tutti i modi, con l'apostrofo e senza l'apostrofo, su siti più o meno autorevoli, in comunicati ufficiali, indistinti, per me è senza l'apostrofo Ndika, e ho deciso che è così. E il numero 2 dell'Eintracht Francoforte è classe 99, quindi nell'anno dei 23, ed è uno dei giocatori di cui quest'estate si sta parlando molto, ovviamente, soprattutto in orbita Milan, ma non solo perché è un giocatore di grande talento, difessore centrale Mancino, che gioca sul cento sinistro di una difesa 3, poi ci arriviamo meglio sul ruolo, la cosa importante è che ha un contratto in scadenza nel 2023. 30 giugno 2023 è lo stesso contratto che ha firmato con l'Eintracht quando ha firmato nel 2018, non è mai arrivato un rinnovo, è un po' strano forse questa cosa del fatto che non si è mai rinnovato, forse è anche un po' una colpa della società Eintracht, però insomma questo comunque magari ci arriviamo tra poco. Prima cerchiamo un pochino di inquadrare questo giocatore, che chiaramente, come si sa da tempo, è un giocatore che piace molto al Milan, c'è un po' di tira e molla, si dice che ci sono state delle offerte già mandate, qualcuno ha smentito, insomma sta di fatto che comunque la si veda. E' un difensore che ha un ottimo futuro, ma anche già un eccellente presente. A 23 anni ha vinto l'Europa League, da assoluto protagonista con l'Eintracht Francoforte, ed è stato uno dei punti fermi di questo ciclo di 4 anni, iniziato nel 2018 con Adi Schütter, e poi è andato avanti anche con Oliver Glasner. Parliamo un po' delle caratteristiche di questo giocatore, è nato a Parigi, esploso nell'Auxerre, o meglio, si è imposto nell'Auxerre, perché poi l'esplosione è arrivata a Francoforte. L'Eintracht l'ha preso quando Ndiqa non aveva neanche mai giocato una partita in una massima divisione, e l'Eintracht l'ha messo subito i titolari in Bundesliga perché aveva riconosciuto in lui delle discrete doti. In realtà in Francia aveva già un nome abbastanza importante perché si era fatto tutta l'altra fila delle nazionali giovanili, fino ad arrivare all'Under 20, quando l'Eintracht l'ha preso era un membro dell'Under 20 e poi è arrivato all'Under 21, non è ancora arrivato a giocare nella nazionale maggiore, ma sappiamo che in Francia c'è abbastanza traffico in termini di nazionale e di talento, quindi da questo punto di vista possiamo capire forse l'esclusione fino adesso di Voluta Dada, di Odile Deschamps. Comunque resta il fatto che quando parliamo di Evan Ndiqa, parliamo di un difensore che ha sempre giocato a Francoforte, almeno sempre no, nella maggior parte dei casi sul centro-sinistra di una difesa 3, raramente sul centro-sinistra di una difesa 2, una volta, non mi ricordo contro chi lo ammetto, ma ha giocato anche sul centro-destra di una difesa 2 e qualche volta ha giocato anche terzino-sinistro a 4. Queste però sono un po' più cose occasionali, così come un paio di volte ha provato anche a fare il centrale di 3 di difesa con risultati abbastanza alterni. Che giocatore è? Un giocatore che ha un ottimo fisico, un ottimo atletismo e ha anche una discreta velocità perché, insomma, lo si vede nel giocare bracciato della difesa 3, tante volte si spinge in avanti, non ha, tra virgolette, paura, timore a magari lasciare un pochino il campo scoperto alle tue spalle e insegura il giocatore perché comunque il passo ce l'ha e ha anche un ottimo controllo della situazione, è un giocatore che sa gestire palla molto bene, è piuttosto calmo, non è magari quello che ti fa lucida in dribbling, ma uno di quelli che può trovarti il passaggio sicuro difendendo palla. Un giocatore che non è che abbia un grandissimo trattamento di palla, ma non è uno di quelli che la butta via sempre necessariamente. Poi quando c'è bisogno comunque non si fa problemi a farlo. E anche questa comunque è una dote, no? Difetti nella marcatura quando deve stare basso secondo me va un po' in difficoltà. Qualche calo di concentrazione, distrazionecine, non ha neanche magari tantissimo quel mestiere del marcatore perché ci può anche stare se si è magari un pochino perso col cambiamento del calcio, però diciamo per quello che gli chiedeva l'Aintracht era molto più importante che imparasse a difendere un campo aperto, sapendo comunque sempre va dietro alla copertura preventiva di Martin Luther Heger che l'ha fatto diciamo da centrale in questi ultimi anni, giocandogli vicino e dandogli un apporto molto significativo anche sotto questo punto di vista. Ecco, la certezza di avere due compagni come Inter Heger alla sua destra e Kostici davanti in questi anni Francoforte l'hanno aiutato tantissimo a crescere e ad essere una certezza nei movimenti, a imparare, no? Anche proprio delle dinamiche di gioco che insomma per un giocatore... Erano tutte da formare, no? Perché non è che veniva da un sistema particolare, veniva da una seconda divisione. Ecco, lo hanno molto aiutato questi meccanismi a diventare il giocatore che è adesso. Può essere il rischio, no? Che rimanga un pochino troppo legato a questi meccanismi. Questo può essere magari un po' il rovescio della medaglia, ma d'altro canto lo vedremo quest'anno se rimane all'Aintracht o se andrà da qualche altra parte. Comunque è un giocatore su cui vale la pena fare ogni investimento. È un giocatore, secondo me, ha necessità di giocare titolare, ma è anche in grado di essere una buona alternativa. Cioè non è uno di quelli che ha bisogno di continuità sempre, altrimenti rischia di perdersi un po'. Può essere anche uno, diciamo così, da turnover, diciamo, anche se di fatto non ne è mai stato dentro questo tipo di dinamiche perché all'Aintracht è rimasto praticamente sempre un intoccabile. Ora il conto delle presenze è di 143, quindi magari salvo un po' di acciacchini che ha avuto durante le stagioni, comunque un giocatore fisicamente che possiamo definire certamente integro, ecco, è uno che in Bundesliga ha 40-35 presenze all'anno, le ha sempre portate a casa, coppe praticamente comprese nella maggior parte delle stagioni che ha giocato a Francoforte, mi sembra, tutte tranne la 20-21 sostanzialmente. Ed era sempre l'Europa League, comunque. Sono legate a Francoforte questa competizione e lo sappiamo. La sua situazione è contrattuale, no? Parliamo anche un po' di questo, perché se ne stanno leggendo molte, quello che abbiamo carpito noi, no? Parlando con, leggendo e parlando con giornalisti e giornali di Francoforte, è che l'Aintracht non vuole che indicava la via zero. Chiaramente l'anno prossimo in Dica si libererebbe a parametro zero e potrebbe diventare ovviamente un pezzo spregiatore del mercato, perché è un difensore comunque di ottimo valore, non farebbe fatica a trovare una squadra anche importante, non top, 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 tipo Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City, però comunque una squadra di... o Liverpool, però comunque una squadra di molto alto livello la può trovare. Poi c'è anche un fatto di funzionalità, però. Non entriamoci adesso. L'Aintracht vorrebbe venderlo in questi ultimi giorni di mercato, penso che una quindicina di milioni potrebbero anche essere sufficienti, 15, magari 20 nel loro migliore dei casi, ma penso che anche 15 possano bastare e sarebbe una cifra, secondo me, molto conveniente. Andare a prendere in Dica per 15 milioni può essere molto, molto conveniente. Il giocatore non sembra intenzionato a voler lasciare Francoforte, perché vuole rimanere un altro anno, vuole andare via zero. Poi soprattutto c'è anche una cosa molto importante, la Champions League, perché l'Aintracht gioca in Champions e indica, può mettersi in mostra sulla vetrina Champions, che alla fine è un po' la vetrina che tutti pensano sia la più importante. C'è anche un'altra cosa, secondo me, che un pochino lo condiziona. Champions e Mondiale, magari se fa un girone fatto bene, se si creano i presupposti, può anche sperare in una chiamata. Non credo, visto un po' quelle che sono le gerarchine nazionali francesi, però ecco, non si sa mai che ci scappi una chiamatina. Comunque, ecco, è un giocatore su cui secondo me l'investimento va fatto, e come avete visto nel titolo, no, anche del video, è forte. Quindi è un giocatore forte, su cui vale la pena, può valere la pena puntare. Per oggi è tutto, vi saluto, e seguitici su tutti i nostri canali, su Facebook, su Instagram, at.esitalia è sempre il nostro indirizzo di riferimento, seguitici su Spotify, contattateci per qualunque cosa, richieste, domande, se volete che facciamo dei video particolari, scrivetecelo qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, così almeno vi arrivano le notifiche quando escono i nostri nuovi video, e ne usciranno tanti quest'anno, ve lo diciamo, perché dopo una pausa che ci siamo presi per un po', inizio a questo, abbiamo deciso di tornare alla grande, no? Quindi seguiteci. Ciao a tutti.